FUNIVIA E' un po' di sottotitoli E' un po' di sottotitoli E' un po' di sottotitoli E' una cosa che si fa Un po' di sottotitoli Sì Sì Come sono? A cena Non ho la cena Figura che si Ha voglia di fare una cena perché loro la chiamano Belen la Belen la chiamano allora come viene vestita come è in scuola infatti mi meravigliavo che non si fosse anche raccontata una mini country infatti l'ho ordinata noi siamo dopo la funivia del Renon che abbiamo visto prima questo è sopra a Bolzano paesaggio di montagna 1200 e qualcosa di metri guardiamo quella è la funivia che sta scendendo qui passa il trenino qui del Renon questo è il trenino del Renon di sopra a Bolzano non è più Grazie.